Tre nuovi incontri La gentilezza è una fondamentale attitudine umana, troppo spesso oggi trascurata. La gentilezza delle corti costituzionali nella lotta contro le disuguaglianze è proprio nel suo linguaggio autorevole. Silvana Sciarra e Gianrico Carofiglio dialogano sulla gentilezza, il coraggio e l'ascolto nel discorso pubblico. Credo che vi siano pochi problemi più urgenti da affrontare in questo paese, della ricerca e quindi dell'università. Non c'è dubbio che la mancanza di autonomia ha caratterizzato per molto tempo il sistema universitario italiano. È l'università il tema al centro dell'incontro tra Massimo Cacciari e Daria De Pretis. Per secoli la vendetta era stata considerata un dovere sociale che consentiva di recuperare la stima dei consociati diminuita dall'oltraggio. Sono questioni eterne, drammaticamente ancora presenti per noi oggi e anzi proprio oggi si direbbe ancora più pressanti. Eva Cantarella propone a Nicolò Zanon il tema della cultura vendicativa della pena e della giustizia. Per la libreria dei podcast della Corte Costituzionale incontri ogni venerdì sul sito e sui canali social. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.